E' un grande piacere che ci siamo ancora e che continuiamo a essere tanti nonostante l'estate avanzi e il mese di agosto in comba, ma noi teniamo duro e continuiamo nella nostra formazione. Io non dirò molto, semplicemente che la posizione sul Notav per noi è una posizione fondamentale dal punto di vista della coerenza del programma, perché non è possibile presentarsi come una lista per i beni comuni senza prendere una posizione chiara e netta su quella che è la grande opera inutile e dannosa per antonomasia del nostro paese, intorno alla quale si sono svolte, si sono veramente articolate delle sperimentazioni sociali sia dal punto di vista della repressione, la Valle di Susa è un problema serio dal punto di vista di quanto lo Stato sappia diventare Stato di Polizia nel momento in cui deve sostenere gli interessi del grande capitale, quindi questo è un punto molto importante, ma anche dal punto di vista di come le popolazioni riescano a formarsi e a ecoalfabetizzarsi come diciamo noi fino al punto da diffondere una cultura relativa al loro territorio, alla donosità di quest'opera che è stata la vera forza del movimento Notav in questi anni. Un movimento che è partito, come capita a quasi tutti i movimenti, demonizzato in maniera assolutamente disordinata dai media dominanti, non che le cose siano cambiate, ma sicuramente l'apprezzamento dell'opinione pubblica per quanto avviene in Valle di Susa è cambiato enormemente. C'è stato un tentativo qualche anno fa, due anni fa credo, da parte del famoso movimento delle madamine CTAV di invertire la rotta del consenso dell'opinione pubblica anche torinese rispetto al movimento Notav con una manifestazione molto 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 sponsorizzata dai gruppi di potere del sistema Torino, quelli per sconfiggere i quali noi siamo tutti qui e siamo candidati nell'esperienza di futura, che portò in piazza pare un 30.000 persone guidate da un nostro collega candidato sindaco di una lista a sua volta indipendente, che è la lista CTAV guidata da un ex parlamentare, non si fanno mai i nomi della concorrenza. Questa manifestazione fu fatta una domenica pomeriggio se non ricordo male, molti andarono a curiosare, quindi probabilmente c'erano più curiosi che manifestanti, ma c'erano tanti manifestanti. Sta di fatto che tre settimane dopo rispondemmo con una manifestazione che sostanzialmente portò quasi 80.000 persone in piazza, quindi davvero la città di Torino fu capace a surclassare con i numeri quella particolare tentativa di sovvertire la presa di coscienza di quanto il TAV Torino-Leone costituisca in realtà non un progetto di ferrovia, ma un vero e proprio progetto di società, perché quella ferrovia lì probabilmente, ce lo dirà bene Tartaglia, mai vedrà la luce, ma sicuramente il progetto di società, il progetto sociale, culturale ed economico che sta dietro quella visione, quella delle grandi opere, è con noi perché è una delle cifre importanti del neoliberismo. Questo è un po' il tema, quindi quando si prende posizione per l'ecologia non si può che stare dalla parte delle popolazioni della Valle di Susa, la città di Torino è coinvolta direttamente, è vero che non c'è una diretta responsabilità del sindaco di Torino rispetto a questa vicenda, ma il sindaco di Torino è anche sindaco metropolitano, e quindi la giurisdizione della città metropolitana raggiunge tutti i territori coinvolti nella questione NOTAV. Siccome noi abbiamo anche come DNA il tentativo di ripristinare la democrazia, e siccome l'abolizione delle province, che per fare a favore della città metropolitana costituisce uno dei gravi vulnus che il neoliberismo nella sua versione renziana ha inflitto alle nostre collettività, io ho sempre detto dall'inizio, abbiamo detto sempre, che cercheremo di fare un progetto che sia un progetto almeno a livello di città metropolitana. Quindi la nostra visione della città di Torino sarà quella di una città che deve per forza porsi in relazione stabile con i territori vicino, e per farlo non può che legittimare politicamente la propria azione. Perché se un sindaco viene eletto a Torino e non si fa carico di aprire un'interlocuzione politica con i territori circostanti, non godendo di alcun tipo di legittimazione democratica, semplicemente non toccherà palla. Cosa puntualmente è capitata, è uno dei campi in cui la nostra sindaca attuale non ha effettivamente toccato palla, perché non hanno fatto assolutamente nulla per provare a offrire una visione integrata di quello che è lo sviluppo di questo territorio. Abbiamo un relatore di eccezione e un intervistatore di eccezione, quindi siamo molto fortunati questa sera di essere qui. Siccome questo è un punto importante del nostro programma, ci tenevo ad organizzare una riflessione, perché è anche uno dei classici temi sui quali la cultura da caffè e da bar prevale. Si è iniziato col notav, sitav, la politica delle opposte tifoserie, che è quella che ormai purtroppo è l'unica essenza della politica italiana. Non ci sono più ragionamenti politici nell'interesse di tutti per trovare dei punti di convergenza nell'interesse generale. L'unica cosa che c'è sono opposti schieramenti, opposte tifoserie. E secondo me quella sperimentazione lì è nata a sua volta in Valsusa, in cui si è costruita tutta questa narrazione di scontri. Questa narrazione esiste ancora e quindi è importante avere degli argomenti solidi per poterne parlare. Ho chiesto a Sabina di presentare i nostri ospiti e di moderare questo dibattito. Cerchiamo di mantenere, naturalmente il relatore farà la sua relazione lunga il tempo che riterrà necessario e poi faremo delle domande, quindi soprattutto Nilo, io spero che tu riesca a fare delle domande precise e puntuali in modo che possiamo aprire una vera e propria conversazione collettiva. Grazie infinite, grazie Sabine.